Una rete di 7 chilometri, 8 stazioni che si aprono sui principali punti turistici e commerciali della città. La metropolitana MT di Genova, che collega la Val Polcever a Brignole, è costantemente controllata dagli operatori del posto centrale operativo della stazione di Brin. Il servizio è svolto tramite il blocco automatico, che permette la corretta circolazione dei treni e il loro distanziamento, avvalendosi di apparati posti lungo la linea e a bordo treno. Grazie a un sinottico luminoso è possibile seguire i treni in qualsiasi punto della linea. Il centro di controllo può comunicare con i treni tramite un apparato radio terra treno, con i passeggeri tramite la diffusione sonora, le colonnine SOS e i citofoni degli ascensori. Noi abbiamo degli operatori che stanno qua H24 tutti i giorni dell'anno e hanno a disposizione tutta una serie di attrezzature che consentono di gestire il traffico, ma anche gli impianti della metropolitana, nonché la sicurezza. Vedete che vi è un quadro sinottico che serve per gestire la circolazione dei treni, i nostri dirigenti centrali del traffico intervengono in caso di perturbazioni, mettono dei treni per potenziare il servizio, li fanno uscire quando è l'ora di farli uscire e possono intervenire sugli apparati di alimentazione, di ventilazione, dell'antincendio. Inoltre, come vedete, abbiamo una serie di monitor che consentono di tenere sotto controllo le stazioni, la linea e anche i veicoli della metropolitana. Vi sono anche dei sistemi che consentono di interagire con i macchinisti sui treni, ma anche con i passeggeri. Vi sono all'interno dei treni delle colonnine SOS e anche in tutte le stazioni che possono essere usate da tutti per comunicare al posto centrale eventuali problemi, eventuali emergenze. Questo è il quadro sinottico della linea. Come vedete, sono indicate tutte le nostre otto stazioni da Brin a Brignole. I numeretti che vedete, che si stanno muovendo, sono i treni che sono identificati col cartellino. Il cartellino è l'insieme delle partenze da capolinea. Tramite il sistema di segnalamento di automazione, i nostri dirigenti centrali del traffico riescono a creare degli itinerari, queste cose qua giallo, che riescono in automatico a gestire la marcia dei treni. Come vedete, questo treno denominato 004 fra poco farà l'inversione al capolinea di Brin, si porterà sul tronchino di inversione e poi invertirà la marcia per tornare verso Brignole. Questi numeri qua sono i circuiti di binario. La linea è divisa in circuiti di binario per una questione di sicurezza. In ogni circuito di binario il sistema di segnalamento fa sì che vi possa essere solamente un treno. In questi circuiti di binario sono caratterizzati dal fatto che hanno un codice associato a una velocità massima che è captata dal treno. Nel caso il treno sfori questa velocità massima, il sistema di sicurezza del treno, che si chiama ATP, interviene e lo fa fermare. Invece questo è il quadro sinottico dell'alimentazione elettrica di tutta la linea della metropolitana. La metropolitana ha quattro arrivi Enel a 15.000 volt e da questi si alimentano tutte le stazioni, che sono queste, ciascuna è dotata di una cabina di stazione che serve per alimentare le luci, le scale mobili, i ventilatori. Inoltre poi ci sono tre sottostazioni che servono per la linea di contatto, cioè per alimentare i treni, per fare in modo che i treni si muovano. La maggior parte dell'energia elettrica della metropolitana, contrariamente a quello che si può pensare, è spesa non tanto dalla marcia del treno quanto dalle cabine di stazione, in quanto per darvi un numero noi abbiamo 6.000 lampade. Queste sono gran parte di quello che consuma la metropolitana, che è l'impianto dell'AMT che è maggiormente energivoro. Telecamere sono installate in tutte le stazioni, in galleria, fino a De Ferrari, a bordo dei treni e all'interno degli ascensori nella stazione di Brignole. La sicurezza è garantita tramite le immagini che arrivano qua, ma anche dal personale che è itinerante nelle varie stazioni, un personale sia di guardianaggio che dell'AMT. I DCT, in caso di emergenza, possono attivare da questa centrale tutte le misure previste dai piani di sicurezza, interagendo con le forze dell'ordine, con i vigili del fuoco. In questa centrale arrivano peraltro anche tutti gli allarmi antincendio, in quanto tutte le stazioni, tutta la linea, tutti i locali tecnici della metropolitana sono coperti da impianto di rilevazione dell'incendio. Tramite le telecamere si controllano tutte le zone della metropolitana e noi attiviamo, in caso di incursioni o di emergenza, tutte le autorità preposte a intervenire. Dopo il crollo di Ponte Morandi, il numero di passeggeri sulla metropolitana genovese è aumentato di oltre il 50%. Il servizio si è subito adeguato alle nuove esigenze della città. Dopo il 14 di agosto dell'anno scorso, la metropolitana è rimasta di fatto l'unico mezzo di trasporto tra la Valpolcevara e il centro città. Di conseguenza, già dalla sera del 15 di agosto, la metropolitana è stata aperta H24. Questo è successo fino al 12 di dicembre, perché, ripeto, la metropolitana è stata l'unico mezzo di trasporto. Oltre ad aver incrementato l'orario di servizio, abbiamo incrementato anche le corse. Dopo un primo periodo, diciamo, turbolento, in cui abbiamo seguito le esigenze che ci venivano comunicate giornalmente, abbiamo avuto un incremento di passeggeri da 40.000 al giorno a 64.000 al giorno verso ottobre del 2018. Siamo passati da 78.000 corse circa del 2017 alle 100.000 che faremo nel 2019. E per farvi capire dello sforzo che abbiamo fatto, siamo passati da 19 macchinisti a 28 macchinisti, proprio perché se prima facevamo 15 ore di servizio, adesso facciamo un servizio che va dalle 5 alle 24 ed è incrementato con delle punte che garantiscono un cadenzamento di 5 minuti tra un treno e l'altro.